Sono sui saliscendi del circuito del Mugello a provare la Audi RS5 Sportback 450 cavalli da 5.700 a 6.700 giri 600 Nm di coppia da 1.900 giri 0-100 in 3 secondi e 9 250 all'ora la velocità massima Ottavio sono Andrea, dove sei? Ciao Andrea, lasciami fare ancora un paio di curve e arrivo Dai sbrigati che poi tocca a me Ciao Andrea Finalmente Finalmente Andiamo a provare la prima su strada Si può? Si, certo, certo Tra l'altro qui c'è il passo del gioco Il vecchio circuito storico Però poi torniamo qui in pista Perché io non vedo l'ora di sfidare un campione come te Si sto Allora in generale tu avrei guidato sicuramente più la moto rispetto alla macchina Incominci che hai 4-5 anni quindi se pensi a quanti anni di corse e tutti i weekend gare Quando sei per strada preferisci guidare la macchina o la moto? Mi piace, mi piace guidare la macchina soprattutto quando hai la possibilità di usare questo tipo di macchine te la godi Questa macchina in particolare in pista ti è mai capitato di guidarla? Si ho avuto la strafortuna di riuscire a correre il campionato di TM Si, ho sentito È stato difficile ma è stata un'esperienza bellissima Signori procedura di partenza Modalità Dynamic Via Sono partito Sono al Mugello Andrea guarda ce la metto tutta Ma devo rimanere concentrato Preciso qui con lo sterzo Attenzione perché questa è contropendenza Buona l'agilità dei cambi di direzione Adesso guarda lontano Lasciala scorrere, vai Eh, non ci manca come spinta Fabio siamo partiti per il giro veloce Ma qua siamo a casa mia, non ce n'è per te Casa nuova Sarelli Uno delle mie preferite Arrabbiata 1 Ci vuole il pelo È una bella macchina stabile Sempre bello girare il Mugello Mi dispiace Ottavio, il giro è venuto bene Eh, non mi avevano detto che sei un campione anche al volante Guarda, mi sono veramente divertito Però la prossima volta bisogna che facciamo la sfida su due ruote Davvero? Sì, però incomincia ad allenarti